Sventata una rapina ad un'area di servizio da parte dei carabinieri di Polignano a mare, due giovani sono finiti in manette. Con il volto coperto da passamontagna hanno fatto eruzione in un bar annesso ad un distributore di carburanti di Polignano, dove hanno fatto razzia di sigarette chiudendo in una stanza il proprietario del bar. In manette sono finiti un 25enne di Trigiano ed un barese di 23 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, arrestati con l'accusa di rapina, porto abusivo di arma e sequestro di persona. I carabinieri in servizio antirapina in via Basile a Polignano si sono insospettiti, notando una Fiat Stilo con il motore acceso e parcheggiata di fronte al bar della stazione di servizio. L'auto, dopo i controlli, risultava rubata. A quel punto sono prontamente intervenuti facendo irruzione nel locale dove hanno sorpreso e bloccato i due malfattori mentre erano intenti a fare razzia di pacchi e stec di sigarette esposte sullo scaffale. Nel mezzo i militari hanno rinvenuto 22 kg di sigarette appena prelevate dal deposito della rivendita. La pistola, risultata un'arma giocattolo modificata e l'autovettura sono stati sottoposti a sequestro mentre la refurtiva interamente recuperata è stata restituita al gestore. I due, su disposizione della Procura di Repubblica di Bari, sono stati posti ai domiciliari.